Cominciamo ragazzi questa parte di matematica e il titolo è goniometria. Goniometria. Goni che vuol dire? Angolo. E metria, tra cui geometria, ci sono sopra di parola che finiscono con metria, misura. Quindi è la misura di un angolo. Tutti noi sappiamo che cos'è un angolo perché è una parte di piano delimitata da due semirette. Nel senso che immaginate ad avere un punto, avete due semirette, questo è il vostro angolo, che noi abbiamo sempre studiato fin da piccoli in gradi. Ad esempio se vi dico, mi dite un angolo in gradi, voi cosa rispondete? 60? 60 gradi. Allora, capiremo subito che i gradi non sono la misura da utilizzare perché, appunto, la misura infantile è un po' come i Celsius in termodinamica. Il valore giusto sono i Kelvin, altrimenti si vanno a commettere degli errori gravissimi. Allora, la goniometria intanto è un po' l'inizio per poter studiare la parte che secondo me come applicazione è più importante, che è la trigonometria. Quindi poi, ovviamente, la goniometria scivola in modo naturale nella trigonometria, che è l'applicazione della goniometria, quindi dello studio degli angoli, nei triangoli. E infatti, più con la trigonometria che con la goniometria, vedremo delle applicazioni bellissime. Infatti questo video è molto corto, volevo semplicemente dirvi i campi in cui la goniometria è utilizzata. Beh, pensate che in qualsiasi campo che non viva in una dimensione, dove l'angolo, se ci pensate, è inutile, noi dobbiamo per forza lavorare con gli angoli. Quindi pensate a tutto il mondo delle costruzioni, ingegneria. Pensate ad esempio alla geografia, alle latitudini, alla longitudine. Se non c'è il concetto di angolo, noi non riusciamo a capire dove siamo. In fisica, i vettori. Goniometria viene fatta in quarta e liceo, ma i vettori vengono fatti in prima, dove viene detto che le componenti, una segue la legge del coseno, una del seno, senza sapere cosa sia. Di cui poi impareremo anche a fare il grafico. In fisica ci sono tantissime applicazioni perché ci sono sistemi che si muovono nel tempo, con la legge del seno e del coseno. Una molla a cui tu attacchi un pesetto e la lasci oscillare liberamente, nello spazio segue la legge di un coseno. Le onde, che sono delle propagazioni di informazione, nel tempo e nello spazio, seguono la legge del seno e del coseno. Un circuito elettronico, ok, a corrente alternata, segue la legge del seno e del coseno. La corrente elettrica, che nel tempo cambia, perché ovviamente è alternata, segue la legge del seno e del coseno. Siamo sommersi da queste funzioni goniometriche, che come argomento hanno gli angoli. Vi dico già subito, non è che quando io dico il seno di un angolo intendo il seno per un angolo. È come la radice, sono funzioni che vengono applicate a degli angoli. No, perché poi c'è gente che semplifica, fa delle cose stranissime, vi dico già, non facciamo delle cavolate. E quindi, come saranno fatti i prossimi video? Sicuramente andremo a intanto parlare di radianti, perché il radiante è l'unità di misura corretta per quanto riguarda gli angoli. E però volevo subito farvi capire una cosa. Perché i gradi sono sbagliati? Ma intanto la domanda giusta è perché i gradi dovrebbero essere giusti. 360 gradi semplicemente è perché i greci hanno diviso il cielo in 360 parti, perché pensavano che l'anno fosse di 360 giorni. Vedevano le stelle che si muovevano nel cielo e hanno diviso l'anno in 360 parti, hanno diviso il cielo in 360 parti e ogni giorno la stella di quanto si spostava angolarmente? Di un grado, molto comodo, no? Vedevi la stella che si spostava di 20 gradi, erano passati 20 giorni, cioè era quasi diventato un orologio vivente il cielo. E molto interessante, però se noi fossimo nati su Marte o su Venere, noi non avremmo 360 giorni, ma giorni in un altro pianeta. Quindi, il radiante invece, se ne frega altamente di quanti giorni ci sono in un anno, capite? È una misura pura, geometrica. Concettualmente non ha unità di misura, cioè l'angolo non ha unità di misura espressi di radianti, se volete ci appiccicate rad, però come vedremo, per come è definito, non ha unità di misura. E poi voleremo, nel video successivo, con il concetto di circonferenza goniometrica. Voi sapete più o meno cos'è una circonferenza. Goniometrica è un aggettivo, capiamo il perché. E poi, grazie al concetto di circonferenza goniometrica, andremo a studiare effettivamente le funzioni goniometriche. Quindi, andremo a studiare il seno di un angolo, il coseno di un angolo, la tangente di un angolo. Beh, la notizia, la calcolatrice calcola il seno, il coseno, la tangente, l'arxeno, l'arco coseno, l'arctangente di tutti gli angoli. Però, creeremo anche in classe una piccola circonferenza goniometrica, che poi comunque farò vedere nel video, in cui, ok, bisognerà memorizzare pochissimi valori e saranno ben visibili gli angoli notevoli. Se, ragazzi, io voglio misurare l'altezza di questa stanza, che posso immaginare sia un rettangolo, posso misurare col metro la sua lunghezza, ma ad esempio non sono talmente alto da misurare la sua altezza. E allora ho bisogno, magari con un puntatore laser, di fare, magari di guardare, punto con un puntatore laser qui, mi accorgo che quest'angolo, che è il mio alfa, vale, col cavolo che vale 30, 60, 45, ragazzi, la realtà poi, amica, vale 22.57 gradi, la stanza, col cavolo che è lunga 5,00 metri, magari è lunga 457 centimetri, e io vi chiedo l'altezza di questa stanza. Come avete visto, io ho messo questa volta l'angolo in gradi. Ecco, bisognerà per forza mettono i radianti, dipende come fai la misura, bisognerà sicuramente essere bravi nella calcolatrice di cambiare l'unità di misura, perché la calcolatrice ha, e ve lo dico subito, la possibilità di fare, di cambiare, diciamo, l'unità di misura degli angoli. Vi dico subito quali sono quelle giuste, così poi capiamo subito come farlo. Allora, l'unità di misura che sono scritte sulla calcolatrice sono GRA, DEG e RAD. Allora, anche se è paradossale, questi non vanno mai utilizzati, perché questi sono i gradi in centesimi, cosa che noi non... Invece, quelli che noi assumiamo come gradi, quindi questi, sono i DEG. Quindi, se voi scrivete in DEG 100, state dicendo 100 gradi, quindi un po' più di 90. Invece, se mettete in RAD, ovviamente stiamo lavorando in radianti. Occhio, ad esempio, che succede molte volte, che i ragazzi, ad esempio in fisica, devono calcolare l'oscillazione di un'onda, che ovviamente è tutto espressa in radianti, perché la fisica parla in radianti, a parte la scomposizione dei vettori, e quindi dovremmo subire noi stessi una sorta di conversione ad un'altra religione che si chiamano i radianti, perché altrimenti in fisica sbagliamo tutto. E quindi pian piano impareremo a usare i radianti. Nel prossimo video, infatti, capiamo come passare... capiamo che sono i radianti e anche come passare dai gradi ai radianti.